sapeva chi era, ho preso il sottoscritto. Questo qui era uno di origini italiane che voleva fare una cantina in California e veniva in Italia, Francia e Spagna a vedere le cantine, come erano fatte, come li facevano. Io stavo costruendo quella a San Casiano e lui durante la costruzione è venuto tre volte. Poi dopo ha costruito e io non sono andato mai a trovarlo, perché io mi vergogno ad andare in California come produttore di vino. Vedo una fotografia, la fotografia della sua cantina è la fotocopia di una chiesa di quel paese sotto la California, verso il sud. Portorico? No. Messico? Messico. Nel Messico tutte le cantine, quelle poche che c'erano, hanno uno stile loro.